Buongiorno a tutti ragazzi, allora ho visto la partita Juventus e Fiorentina Women, ovviamente non è ai livelli del calcio maschile per quanto riguarda la tecnica, il fisico, ma è normale, se no giocherebbero insieme agli uomini, ma non è un discorso di discriminazione o cose del genere, semplicemente è una cosa fisiologica e umana. Per quanto riguarda la tattica non è un calcio così tanto inferiore al calcio maschile, a mio avviso, perché fino a che le squadre non erano stanche vedevo squadre veramente ben organizzate e concentrate. Io sono dell'idea invece che davanti a 40.000 spettatori praticamente, e comunque alcune giocatrici hanno dimostrato tanta personalità, per me la vergogna è non considerare comunque il calcio, anche vedendo le scene intanto anche un buon in bocca al lupo a Cecilia sicuramente. E' già un qualcosa averla vista poi in campo dopo la partita, quindi significa che non è la cosa peggiore che ci si immaginava, sapete i legamenti insomma. E comunque ho visto giocatrici professionisti in campo oggi, infatti io spero che prima o poi il calcio femminile venga ufficializzato per quanto riguarda il professionismo, perché se lo meritano. Io adesso non faccio discorsi tattici, perché non ho metri di paragone con altre partite, penso sia la seconda partita che vedo del calcio femminile, quindi non voglio fare il sapientone di qualcosa che di fatto non osservo, non vedo. Oggi ho avuto la possibilità di guardarla, e questa partita, l'Allianz Stadium è assolutamente bello, quello che volete. L'unica cosa è che comunque ci sono certi e certi tifosi che pretendono che la rivalità non ci sia. Già in passato, da quello che mi dicono altri, alcuni tifosi sono andati in curva sugli spalti a vedere le partite del calcio femminile, con bandiere, cacosciarpe, di tifoserie avversarie e quant'altro. Adesso non voglio fare polemica, però ad esempio ieri ho dovuto anche discutere, sono stato anche bannato da un gruppo, vabbè, non importa. Però anche lì il fatto che venga consentito che in curva entri una bandiera inglese, a mio avviso è comunque abbastanza una cosa oscena. E faccio una piccola parentesi, perché molti dicono, ma odio Liverpool e queste cose qua, cosa c'entrano con il calcio? Allora, cosa c'entra con il fatto di commemorare le 39 vittime? Allora, se voi non lo sapete, quelle 39 vittime dell'Eisel sono state uccise dai tifosi del Liverpool. Il Liverpool non ha mai chiesto scusa ufficialmente alla Juventus. Anzi, quando le famiglie delle vittime dell'Eisel hanno organizzato incontri di commemorazione per le vittime dell'Eisel, il Liverpool non ha mai aderito a tali iniziative. Quindi, il Liverpool, e poi soprattutto quando arriva il 29 maggio di ogni anno, il Liverpool ha sempre trattato quella cosa lì, di quella serata lì, come un semplice incidente casuale, quando invece è stato un pluriumicidio quella serata lì, ok? Chiusa parentesi, perché non voglio neanche sentire morali da alcune o alcuni tifosi che vanno a vedere il calcio femminile e si dissociano o comunque dicono agli altri di non cantare odio Liverpool o cose del genere. ognuno fa quello che vuole allo stadio, ok? E poi, appunto, non posso sentire delle opinioni, che non sono neanche opinioni, sono oscenità, perché significa non rispettare nemmeno quelle 39 vittime facendo certi discorsi, ok? Bene. Chiusa parentesi. Detto questo, io tra l'altro adesso sono nel gruppo di Dominio Bianconero, che comunque segue la Juve Femminile, e vi invito, casomai, a seguire anche la loro pagina. Insomma, io non seguo il calcio femminile come fanno loro, assolutamente non sono ipocrita a dire il contrario. Però, comunque, le ragazze, alcune ragazze della Juve Femminile le seguo, so bene o male i risultati, so bene o male cosa fanno, e comunque ho anche Roby, Fori Rosa TV, che segue molto meglio, anzi, segue il calcio femminile, con il quale mi confronto più che altro, e quindi so bene o male le cose, come vanno. Però, comunque, a parte tutto il resto, tutto il contorno che ho appena detto, mi è piaciuto, mi è piaciuto tutto l'ambiente dell'Allianza Stadium, il tutto esaurito, non era facile nemmeno con i biglietti gratis, ok? Perché c'era qualcuno che ha fatto dei discorsi veramente stupidi, e invece è normale che qualora avessero messo i biglietti come una partita del calcio maschile, molta gente magari non sarebbe andata, ma semplicemente perché il calcio femminile, in questo momento, ha bisogno di slancio, di essere slanciato, di uno slancio, ecco. È normale che se il calcio femminile in questo momento non viene considerato come dovrebbe essere considerato, è normale che la gente è scettica se deve pagare qualcosa che di fatto non segue o no. Invece, con i biglietti gratis, probabilmente avvicini ancora di più la gente a questo sport, al calcio femminile. E questo per me è stata una buona iniziativa della Juventus, speriamo ce ne saranno altre in futuro, e comunque le ragazze, ripeto, erano ovviamente emozionate, però hanno dimostrato grandissima professionalità, questo poco mi assicuro, e quindi io sono assolutamente contento di aver guardato questa partita e non penso di aver perso assolutamente due ore, io anzi penso di aver guadagnato due ore, proprio perché, diciamo, sono anche io un po' più avvicinato al calcio femminile. Niente, adesso mancano tre partite alla fine del campionato, la Juventus adesso è a più quattro sulla Fiorentina, se non sbaglio, e mancano appunto tre giornate, però nulla è scontato, speriamo appunto che le ragazze portino anche questo scudetto per quanto riguarda il calcio femminile a Torino e si confermino appunto campionesse d'Italia. Ragazzi, se avete visto la partita fatemi sapere cosa ne pensate, io auguro ancora un buon in bocca al lupo, un in bocca al lupo a Cecilia e anche alla Rosucci che comunque sta recuperando. La Bonansè, ad esempio, molto tecnica, è probabilmente la giocatrice più tecnica di Juventus femminile, però se voi avete notato, ha iniziato a fare qualcosina di più quando il ritmo, cioè, più che altro, è sopraggiunta la stanchezza e quindi quando sopraggiunge la stanchezza, ovviamente la giocatrice o il giocatore più forte, questa cosa vale sia per il calcio maschile sia per il calcio femminile, quando la stanchezza sopraggiunge, lì viene fuori ovviamente la tecnica di un giocatore più forte dell'altro, ad esempio, come appunto anche per quanto riguarda il calcio femminile. Comunque, questo è quanto. Buona giornata a tutti e sempre, comunque, fino alla fine, Forza Juventus!